Allora signori, io direi che possiamo iniziare a pullare, quindi direi free ticket, tanto io sephilot già ce l'ho, per cui inutile andare a pullare nell'altro banner Direi di andare a vedere subito cosa ci dà la nostra Leonora, per caso io non abbiamo le free pull Vediamo se, oddio, c'è stato un laggone che però potrebbe rappresentare anche la XLLD in questo caso, perché orb dorata potrebbe anche rappresentare XLLD o comunque queste armi qua che giustamente non ce le ho Anche se in realtà ho scaricato i dati di gioco, per cui, non so effettivamente, però c'è stato un bel laggone e la cosa mi ha fatto molto piacere, se devo essere onesto E infatti, LD, ok, era l'LD, però buona, LD va benissimo, che è praticamente l'unica di quelle che non posso tokenare, praticamente Perché l'LD da tokenare è praticamente impossibile, quindi Ora l'unica che effettivamente mi servirebbe sarebbe la BT, perché i token li ho usati per Sisney Quindi la BT effettivamente è un'altra di quelle che mi servirebbe, poi la FR in un modo o nell'altro la si trova Ho un sacco di ticket da spendere, quindi me ne sbaffo Sì, ma la FR non è un'arma, cioè, per pullare la FR devi pullare tutto il kit del personaggio L'LD Bene o male Dici, sai, va bene, non ho l'LD Che poi comunque l'LD da un punto Oh! L'LD da un punto di vista di buff è anche più importante della FR Perché comunque la FR dà un buff che tu sfrutti durante la FR Mentre invece l'LD ti dà un buff fisso Quindi, tecnicamente Allora, andiamo a vedere Madonna cancredi E in questo caso è Seppo Allora, buttiamo qualche altro ticket Allora Scegliamo il risultato Ok E... Boh, vado a buttare anche qualche ticket perché tanto sono strapieno Quindi Ora, speriamo di non avere l'inventario L'inventario strapieno Va bene, va bene Allora, arriviamo a 90 Madonna mia Che è sto caricamento per una cosa azzurra? Ah, ok A 15 Vabbè, sti cazzi Ma il PG sulla carta sembra essere Sembra essere molto buono Io più che altro lo voglio vedere perché Ci sono dei Non so se effettivamente siano dei veri e propri bug di gioco Però ho visto delle robe Ho visto delle robe pazzesche Fatte con PG che si levano gli HP E che poi recuperano E che recuperano Caricando la barra A livelli incredibili Perché, ripeto Devo fare Devo fare A parte che devo fare qualche test Se ovviamente riesco ad ottenere il personaggio Perché non è detto Io potrei anche non trovare nulla E quindi Rimane Rimane lì Messa Messa da parte Non so quanti ticket in realtà Io avevo messo da parte Oh Ho visto un connecting Ho visto un connecting Ok, 35 Ottimo 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 Ora vado leggermente più avanti Perché sinceramente Vorrei anche la X A sto punto Non credo di averla ottenuta La X Quindi mi serve ancora la X E non vorrei prenderla Con i token Sinceramente Anche perché posso evitare Di prenderla con i token Ecco Mi sa che è qua Mi sa che è qua Ho visto un altro piccolo lagghettino E quindi mi sa che è qua Ah Tra l'altro Da domani Dovrebbero cominciare A chiamare Per le beta di Evercrisis Eccola qua Perfetto Dovrebbero cominciare Dovrebbero cominciare a chiamare Per le beta di Evercrisis Quindi Chissà che magari Non mi facciano il regalo di compleanno E mi facciano partecipare Alla beta Ho già parlato Anche con Con Brian Con Jade Con tutti quanti gli altri Brian a quanto pare Non parteciperà alla beta Semplicemente perché non può Però Comunque lui al solito Si è reso disponibile Per tutto il materiale Dice se ti interessa materiale Nel senso Usciranno praticamente Tutte le interviste Tutte le robe relative al gioco E quindi Magari se ti serve qualcosa Puoi tranquillamente chiedere Perché ci siamo sentiti Oggi pomeriggio Con tutti quanti Dato che siamo nel mood Final Fantasy XVI Per il momento Tutti quanti Stavamo parlando Appunto Di quelle che possano essere Le nostre impressioni Al momento Su Final Fantasy XVI Anche perché Brian l'ha finito Jade ancora È più indietro Anche rispetto a me Quindi Siamo ancora In alto mare Come si suol dire Allora Io sinceramente Sti ticket Li butto Perché tanto Poi mi cappo Oddio Niente Ho chiuso il banner Quindi non posso buttare più ticket Non posso buttare più ticket Io li volevo buttare Sti ticket ormai Perché tantora Li ricappo Eh questi ce li ho Lei ce l'ho Ci sarebbe Lennina 30 ticket 30 ticket sull'enna Così Giusto per vedere Se esce anche l'enna Vai Avanti Facciamo Facciamo la follia Vai 30 ticket sull'enna Dammi l'abt Calpestami con l'abt Vediamo No Niente Niente Lennina Ci abbiamo provato Va bene così Niente Così resto a 900 E i 100 ticket Oddio Ma aspetta Ma quanti Ma io adesso ci saranno i ticket Del Ci sono i ticket Della board I ticket del capitolo Io ci ritorno a 999 Comunque Vabbè Niente Eh vabbè Allora facciamo una cosa Dai Facciamolo Facciamolo per dom Ne butto altri 50 Arrivo a 850 Ne arrivo a 850 Vediamo se No 100 è un po' esagerato 50 sì 100 mi sembra Oddio Oddio Viola Che diventa Che diventa magari Viola che si trasforma Buonasera Sono il portavoce di LIA Mi segnala che sono stati segnalati picchi di energia sculonica Si prega di fare attenzione alle possibili ripercussioni Tipo messaggio No Ok Ah Lennna FR Però Avete La uscita La FR Lennna Dovresti uscire Ah Niente Siamo pieni Basta Quindi il destino ha voluto Che noi ci fermassimo qua Vabbè Basta Dom Ci abbiamo provato Mi dispiace È stato un piacere Però È finita così C'è un piacere C'è un piacere C'è un piacere C'è un piacere